Per fracrescere gli eventi sul territorio è necessaria una condivisione ampia da parte delle istituzioni, delle associazioni di categoria e dei privati. Parola di Giuseppe Meo, presidente dello SNEM, di quel Salone Nautico di Puglia che oggi è sbarcato in prefettura per la costituzione di un comitato tecnico-scientifico che lavorerà alla ventesima edizione dell'evento in programma nel porticciolo turistico Marina di Brindisi dal 10 al 14 ottobre prossimi. Noi abbiamo una visione, quello che la Nautica può rappresentare per questo territorio è sicuramente un volano di sviluppo in un momento davvero difficile ed è per questo che abbiamo cercato di mettere insieme tutti gli stakeholders per intavolare delle iniziative comuni, aprire lo SNEM alle istituzioni perché questo possa essere un contenitore nel quale parlare dello sviluppo di Brindisi in futuro. La prefettura avrà quindi un ruolo aggregante, sarà punto di riferimento di tutti i soggetti protagonisti delle attività che si svolgeranno nell'area portuale, da quelle cantieristiche agli eventi. Che sia stata scelta la prefettura come ruolo per dare oggi questo inizio dei lavori preparatori della ventesima edizione del Salone Nautico e motivo come dire di soddisfazione vuol dire che si sta facendo bene questo lavoro e il nostro intento è di proseguire su questa strada.